io innanzitutto farei un salto vai no ma che cosa 2 1 abbiamo vinto 40 secondi sali a bordo degli elicotteri per vincere che cavolo ha fatto il nostro amico si distrutta distrutta tutta la marca ciao a tutti ragazzi siamo raby emma lee e baby shark baby shark baby shark baby shark ok basta siamo troppo bravi siamo troppo bravi a cantare potrebbe arrivarsi un copyright quindi basta che cosa sta succedendo non c'è pericolo non ci arriva il copyright ma c'è pericolo invece perché c'è uno squalo oh mio dio ma cosa sta succedendo ragazzi ma dove siamo finiti calma calma oggi sarà un video epico perché dobbiamo scappare dallo squalo pazzo io non ho nemmeno più la voce perché sto male ragazzi quindi sto registrando solamente per voi quindi per favore è tre settimane che si fa compatire perché ha mal di gola mal di schiena dovete compatirmi lasciando un mi piace e iscrivendovi al canale perché io resisto solamente per voi è vero questo è vero è bravo un applauso a Molly mi raccomando iscrivetevi tutti ma no ma cos'è questa cosa è una bara barca ma cosa è una barca bara è una barca bara ma quanta gente che c'è qua è come il nostro carrellino ricarica ricarica non fare spoiler che magari no a breve forse lo vedranno nei prossimi video ci sarà una sorpresa epica il ricarrellino è davvero fantastico è davvero fantastico va bene uh c'è una barca rosa c'è una barca rosa sono le Winx allora spawniamo la nostra barca vediamo cosa vuol dire la spawniamo qua spawniamo vuol dire che la creiamo la generiamo la generiamo allora vediamo barca da pesca piccola barca vela no quella barca d'acchi quella dov'è barca d'acchi cos'è ok ecco qua sembra un pedalò ragazzi cioè non è una barca è un pedalò allora noi dobbiamo farci un giro si e dobbiamo fare attenzione allo squalopazzo oh mamma e dov'è lo squalopazzo mamma mia lo squalopazzo è in giro da qualche parte ok ma come facciamo a sapere dove si trova io innanzitutto farei un salto vai no cosa è successo ma che cosa si ci siamo ribaltati due volte nel mentre c'è anche il titanic oh cosa c'è lì guarda c'è un pesce no c'è un pesce è una persona no è un pesce sali sali sulla d'acchi è una persona non vuole salire vuole nuotare remy sei il titanic zitto nuoto 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 ma il titanic non era affondato no non andare là ci sono gli squali ma dove ci sono gli squali guarda sono persone no sono squali oh mio dio sono squali veramente no molly cosa hai fatto squali ho fatto ribaltare la barca ok se hanno affondato quella no ma che cosa no oh mio dio vabbè allora però è un paradosso ma la nostra piccola barchetta potrebbe essere più solida dell'altra più solida dell'altra sì perché vedi l'altra affonda noi invece saltiamo in aria oh mio dio oh mamma mia si sono barche che saltano in aria a caso totalmente allora vediamo noi quindi dobbiamo cercare vediamo un pochettino ma si può diventare squali per favore oh no allora spawniamo proviamo a spawnare qualcosa però vediamo ma che è qua cos'è sto posto è l'isola che non c'è è l'isola degli squali questa c'è però questa c'è oh guarda guarda puoi entrare nel nether ma che cosa nel nether non è che siamo su minecraft ah scusa c'è solo su minecraft il nether eh beh direi di sì vabbè il portale dai il portale ok dopo aver visto tutte queste barche strane sì mamma mia ma guarda che roba ma non è una nave da crociera non è una barca direi che ci siamo scaldati per andare ad affrontare il vero squalo vai sei pronta prontissima eccoci qua mamma ma siamo su una piattaforma quali sono i pirati no siamo su una piattaforma sul mare sì perché in pratica siamo nella lobby e dobbiamo aspettare e cosa aspettiamo perché qua si sarà lo squalo più grande di tutti e noi dobbiamo scappare oh mamma no c'è schidi bidi di toilet versione d'acchi sarà d'acchi di gidi di toilet e da sciopare no io lo volevo non è attualmente in vendita il tuo conto non ha subito debiti ha debiti non vogliamo i debiti niente i debiti a scuola non li voglio non voglio né i debiti né i debiti a scuola è una bolla cielo oh mamma no vabbè ma adesso dove andiamo adesso andiamo in cima e poi cosa succede ma che ne so attenzione eccoci qua wow possiamo vedere tutto comunque guarda ti faccio vedere questo è lo squalo oh mamma noi dopo dobbiamo scappare da questo squalo gigante ho capito come facciamo a scappare se non lo vediamo non si scappa non si scappa infatti guarda la gente è in mezzo al mare no poverini lo squalo è stato sconfitto ma è notte è notte infatti mamma mia ci hanno messo tantissimo a sconfiggere lo squalo allora la cosa brutta si è che guarda abbiamo il 2% di possibilità di essere lo squalo no dai quindi non saremo mai lo squalo io l'avevo letta peggio eh devo dire cioè 2% di vita invece no ancora abbiamo tutta la vita ragazzi siamo prontissimi allora vediamo chi sarà attenzione vediamo no è lui ma dai ma aveva l'8% come noi no noi due no noi due ok scegliamo la barca vai questa qua fa troppo ridere questa è simpatica invitiamo la gente che magari vuole entrare oh mamma invitiamo 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 quanti ne hai invitati? ok uno uno è con noi uno è con noi ok dai venite da noi guarda questo quanti ne ha ma tantissimi invita 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 vabbè ok solo uno nessuno ci vuole solo uno solo uno ok meglio di nulla meglio di niente eccoci di notte Reby oh mamma allora guarda stiamo guidando qua dentro ma scusa una cosa cosa? lo squalo come lo vediamo di notte eh lo squalo adesso è questo ed è molto arrabbiato è stato rilasciato Reby la cosa brutta è che è notte quindi noi facciamo molta fatica a vedere lo squalo è ma è quello infatti che sto dicendo tempo fino all'arrivo degli elicotteri oh mamma ok allora oh è giorno è giorno quindi si dovrebbe vedere meno male qualcosa si vede almeno lo vedi da qualche parte? eh no non vedo niente ok facciamo molta attenzione questo qui cosa sta facendo? guarda lì dove? te lo indica ok ok la barca là su guarda 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 ok giriamo a largo eh ok andiamo a largo andiamo a pescare in stata pace e tu non andare lontano stai lontano allora abbiamo 156 155 153 153 secondi per scappare per scappare sì dobbiamo aspettare gli elicotteri va bene però una cosa lo vedi non lo vedo più se siamo vivi dopo 144 secondi vuol dire che abbiamo vinto abbiamo vinto dai 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 rimaniamo vivi allora aspetta se faccio così lo vedo da sotto da sotto eh però quando ti da quel pallino giallo con la pinna secondo me è perché ti dice che dove lo squalo esatto infatti allora mamma non riesco a vederlo non è che è dietro di noi no allora aspetta scendo un attimo di qui no cosa fai? no allora faccio guidare il nostro amico no non farlo guidare ok guida un po' io mi metto io mi metto qui potrebbe essere pericoloso ok stai tranquilla che ci penso io con questo fucile certo ma se va sott'acqua il fucile non funziona sì ci ci devi andare sta andando sta andando allora occhi aperti perché questo squalo fa le bolle fa le bolle quest'acqua fa le bolle fa le bolle fa le bolle attenzione oh sta guidando un po' forte il nostro amico allora la cosa positiva è che mi sa che ancora non ha distrutto nessuna barca ok sei sicuro? eh mi sembra di sì beh allora è un po' scarso è un po' scarso questo squalo questo squalo è scarso vabbè l'abbiamo pure perso l'abbiamo perso attenzione si è affogato si è affogato ragazzi cosa improbabile e impossibile si è affogato lo squalo si è affogato lo squalo ma dov'è? non c'è nessuna parte ma dov'è questo squalo? il nostro amico mi sta facendo venire in mal di mare comunque sta guidando un po' storto 30 secondi ragazzi possiamo quasi sopravvivere guarda c'è un party qua ma scusate ma lo squalo è sparito lo squalo si è addormentato ma non ha preso nessuno? vabbè vinciamo easy vabbè vinciamo facile però non ha preso nessuno questo squalo infatti non ha preso nessuno neanche un piccolo pesce ma cosa sta facendo? dorme non lo vedo gli elicotteri vedo un elicottero ci sono gli elicotteri dai che ci siamo sta arrivando l'elicottero 8 secondi 7 6 5 4 3 2 1 abbiamo vinto 40 secondi no no perché non abbiamo vinto no 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 che cavolo ha fatto il nostro amico sali a bordo degli elicotteri per vincere che cavolo ha fatto il nostro amico abbiamo cantato vittoria troppo in fretta non è vero Reby per colpa tua è tutta colpa di sto nabbo no dai uomo in mare devi salire sull'elicottero uomo in mare devi cercare l'elicottero e dove cavolo sono? sono là aiuto sono laggiù guarda là c'è l'elicottero sono qui dai sali forza dove è lo squalo aiuto dove è lo squalo? l'elicottero devi andare lì ma non se la paro mai devi salire sull'elicottero mamma mia è tutta colpa di quello no dai dai sali sali ai tre secondi ai tre secondi ma non ce la faccio ai tre secondi l'elicottero dai 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 no 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 ti prego l'elicottero lo vuoi fare dai dai elicottero sì mamma mia non è vero ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta mamma mia mamma mia ragazzi no è stata una botta di adrenalina tutto in una volta disastro attenzione quindi abbiamo vinto sull'elicottero ma sto squalo dov'è? in tutto lo so non lo so dove è finito lo squalo siamo salvi è partito l'elicottero ok allora adesso speriamo sì di essere noi vai gli squali abbiamo il 3% eh vabbè un in più di prima eh abbiamo un po' più di denti perché con i denti si possono comprare delle nuove barche la barca con i salvagenti quanti ne abbiamo? 200 possiamo prendere questo? cari eh però questo ma noi ci siamo stati su questo te lo ricordi aveva fenni in Sardegna ragazzi se andate a vedere il nostro video vacanza ci sarà anche quello c'era fenni allora vediamo io direi di cambiare modalità dopo 3% quello 12 vabbè ciao noi noi dai noi eh ma quella 12 Reby dai 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 quella 12 siamo noi siamo noi siamo noi gli squali siamo noi c'è totalmente a caso attenzione Reby totalmente a caso scegli il tuo squalo beh quello per forza abbiamo solo quello perché si può shoppare anche uno squalo diverso attenzione ma finalmente siamo uno squalo siamo noi incredibile questa cosa vai eccoci qua siamo noi ragazzi ahhh adesso dobbiamo fare fuori le barche Reby e molli gli squali vai lì c'è già una barca dove dove la vedi? non era una barca io non avrò pietà delle barche va bene va bene però se salti sopra lì tanto vediamo dove sono guarda 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 iiiiiaaa siiii ooooh distrutta distrutta tutta la barca eh ci sta facendo male da squali siamo abbastanza cattivi allora di notte non si vede molto bene quindi bisogna fare attenzione vieni qui tu che mi hai rotto le scatole perché ci possono sparare gli altri? si ma è che di notte ahhh no per pochissimo non ho preso questo qui attenzione vieni qui fatti mangiare ma perché ahhh li abbiamo mangiati Reby ho capito una cosa perché quelli più veloci cerca le barchette che vanno lente tipo noi prima stai tranquilla adesso guarda andiamo giù negli abissi marini si e cosa c'è uh belle queste cose non facciamosi distrarre dobbiamo mangiare le barche 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 tanto per cambiare di notte dobbiamo cazzare noi è più facile per noi di notte è più facile guarda là ci sono là ci sono dei dei cosi che girano potrebbero essere delle barche vediamo dove sono lì lì guarda si si sono i motori delle barche vai vai quello è il faro aspetta c'è uno là la papera la nostra barca papera la barca papera no la barca papera mangiata mangiata no però mi dispiace per quelli sulla barca papera guarda questo guarda questo guarda questo no non ce ne sono neanche accorti mamma mia ma quanto siamo cattivi come squali dov'è è un po' troppo l'ho mangiato o no dov'è l'ho mangiato dici hai distrutto la barca distrutto tutto attenzione magari si è salvato lo vedi è qui è qui no l'ho mangiato poverino ok guarda questo non se lo aspetta Reby distrutta la barca mamma mia stiamo mangiando tutti stiamo facendo un disastro diranno questo squale è molto cattivo questo squale è super forte hai mangiato anche lui? si ho mangiato anche lui c'è un altro dici qua no prossima barca Reby ok attenzione guarda i resti della barca ok qua qua ce n'era un'altra sono lì sopra tantissimi vieni qui no attenzione vieni qui ciccio bello attenzione ti stanno sparando ti stanno sparando questo è bravo è adesso di giorno chi comanda attenzione guarda guarda lo sto puntando Reby ya mamma mi hai fatto cadere guarda quello vai raccoglilo mangialo 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 ok abbiamo mangiato tutto ce n'era un altro dici qua lo vedi? secondo me si non sono finiti altrimenti sarebbe finito il gioco avremmo vinto no dicevo su quella barca se ce n'erano altre qua non vedo neanche altre barche allora ne rimangono un po' vediamo la barca dei pirati la barca dei pirati facciamo fuori pirati potremmo salvare Peter Pan attenzione vieni qua barca dei pirati guarda come scappa guarda come scappa scappa no ci hanno colpito si ma guarda li stiamo massacrando Reby attenzione oh mamma la barca dei pirati distrutta mamma mia l'abbiamo debolita allora dove sono? è qui il nabbo guardalo dove sono i pirati? l'ho mangiato ce n'era un altro ce n'era un altro dov'è? ci siamo mangiati tutti i piedi guarda dove è andato attenzione questo qui vieni qui fatti mangiare ok un altro mangiato allora vediamo un po' sto passo abbiamo 50 secondi Reby ma ce n'erano 4 lì dentro erano la barca con più persone possibili c'era un altro qua mangiato mangiato prossime barche le vedi? si ce n'erano un po' là dove? no dall'altra parte là ok bravo forse l'ultima è l'ultima potrebbe essere l'ultima non so se ce la facciamo siamo proprio uno squalo cattivo affamato si siamo uno squalo molto cattivo guarda gli facciamo il giro gli facciamo il giro Reby attenzione rimani sotto così non ti vede mamma mia dov'è 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 è scappato oppure l'hai già mangiato dov'è che non lo vedo neanche io lo vedo dov'è è qui è lì è qua fatti mangiare vai fatti mangiare hai torpito preso preso abbiamo vinto abbiamo vinto le Reby e Molli sono i migliori ragazzi mamma mia 330 dentini denti ragazzi dagli squali Reby e Molli è tutto speriamo che il video vi sia piaciuto se volete il secondo episodio fatecelo sapere e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo fantastico video ciao 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 Grazie a tutti.